Appena una settimana fa il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri pare avesse ispezionato il sito monumentale di San Giovanni in Parco nell'ambito di un filone di indagini sul mercato illecito dei beni culturali. Una sorta di ricognizione anche in quel complesso monumentale di Lucera Inferiore che ieri invece è venuto alla ribalta della cronaca per ritrovamenti inquietanti. Una pura casualità probabilmente, ma i cittadini si interrogano sulla macabra scoperta. Resti umani, ossa, teschi e corone di fiori secchi. Chi li ha portati lì, visto che, pare fino ad una settimana fa, non ve ne fosse traccia? A chi appartengono quelle ossa umane rinvenute? Perché erano lì? Diverse le piste eseguite dagli inquirenti, le indagini sono affidate al locale comando di polizia municipale che dovrà, attraverso la polizia mortuaria, procedere per gli accertamenti di competenza. Alla soprintendenza, invece, il compito di stabilire a che periodo possano risalire i resti ritrovati. Dopodiché, le ossa umane potrebbero essere posizionate in apposite cassette di zinco per essere collocate in qualche altro sacrario. Le statue ligne, invece, potrebbero essere collocate in una o più chiese della città o a disposizione della soprintendenza per evitare che diventino preda di qualcuno. Resta l'interrogativo su cosa ci facesse lì tutto quel materiale rinvenuto ieri casualmente dagli aggiunti delle guardie ambientali in perlustrazione dopo aver ricevuto una segnalazione di una cagnolina gravida in difficoltà. Addentrandosi all'interno del complesso, hanno avvistato un sacco di plastica nero simile a quelli usati solitamente per i rifiuti. Aprendolo, vi hanno trovato occultate ossa umane. In un angolo dell'antico pavimento, invece, hanno avvistato una cassettina in legno con dentro un teschio ed altri resti umani, insieme ad una croce e ad ossa frantumate. Appoggiato a una parete, invece, hanno notato un arco di fiori secchi. Tutti elementi che hanno fatto pensare alla celebrazione in quel posto, ora un cantiere abbandonato e mai completato, di messe nere o riti satanici. Anche se non va esclusa l'ipotesi che possa trattarsi di residui del cantiere per lavori di ristrutturazione e restauro, un cantiere aperto nel 2008, ma fermo dal 2012 dal comune nocerino, essendo il monumento di proprietà dell'ente. Sul posto intervenuti ieri anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per constatarne il rinvenimento anomalo. Si attende ora di sapere l'esito degli accertamenti degli enti preposti, ma la curiosità popolare e le dicerie si sprecano in queste ore.